Il catalogo di 12 fotografie in bianco e nero dal suggestivo titolo Disorientamente è arrivato nell'area urbana di Rossano. Quello che è venuto fuori è una mostra non solo visiva, ma anche interiore, dove la parola entra in relazione con le immagini, instaurando così riflessioni sui sentieri dell'animo. I protagonisti del progetto sono stati Maria Curatolo, Carmela Martello, Giovanni Torchiaro, circa tre anni di intenso e duro lavoro. Qual è il progetto? Il progetto è un progetto diciamo ambizioso che si propone di cogliere nella società attraverso lo scatto e attraverso la scrittura molto molto breve, pochi versi, il senso di disorientamento che appunto nella società si vive. I versi di Maria Curatolo descrivono l'inquietudine ed il timore di chi ricerca risposte nell'incertezza dei nostri giorni. Abbiamo voluto dare una plurisensorialità all'immagine, quindi c'è la verbalizzazione e la visualizzazione che naturalmente fa scaturire emozioni. Le foto di Carmela Martello sono state realizzate con l'effetto del chiaroscuro. La macchina è stata impostata direttamente in bianco e nero e non c'è stato alcuno scarto. Non c'è molta post-produzione, anzi direi non ce n'è propria e quindi doveva uscire fuori una foto che in qualche modo in linea di massima già fosse perfetta già dallo scatto. Matteo Lauria per l'ACI News 24.